Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ecco secondo video di giornata dopo il post gara della Juve arriva il post gara di Milan, Napoli-Milan La partita probabilmente più attesa della giornata, no? Per questione di classifica, perché era uno scontro diretto e il Milan risulta essere la bestia nera del Napoli Milan che batte il Napoli in casa loro, risultato 1-0, gol di Giroud, posso dire la mia, francamente ragazzi era una partita da pari Però ecco, ci sta che vincesse l'una o l'altra, alla fine queste sono partite che vengono decise dagli episodi Quindi il Milan è inutile stare lì a recriminare, secondo me non ha rubato nulla, non ha veramente rubato nulla Quindi complimenti al Milan per questa grande vittoria che proietta i rossoneri adesso primi in classifica A 60 punti, l'Inter a 58, ma ricordiamo una partita in meno contro un Bologna che ormai ha messo i rimi in barca Quindi potrebbero essere virtualmente 61, Napoli a 57, Juve a 53, quindi il Napoli adesso dista 4 distanze da noi Allora, io ragazzi non sono proiettato ovviamente per la corsa Scudetto perché sarà una corsa per queste tre squadre Il Napoli ha ancora un gap minimo su cui giocare e deve cercare nelle prossime gare di andare a fare punti A fare punti importanti perché non è ancora chiusa la lotta Scudetto Prima di ragionare un po' sulla partita voglio ragionare un po' sulla mentalità Già dalla vittoria della scorsa settimana, quando inizia a sentirsi sta parola Scudetto per le strade di Napoli Pare che venga il braccino a questa squadra Da Sarri a Spalletti cambia veramente poco È una squadra che quando sente la parola Scudetto canna poi la partita importante Non so per quale motivo perché in realtà questa è una partita che secondo me il Napoli poteva interpretare meglio E ha delle responsabilità Spalletti per l'undici iniziale Ok, hai delle persone che stanno comunque recuperando Però un certo carico qualitativo non lo puoi lasciare in panca Perché poi ragazzi, quando la partita era già compromessa con il risultato di 1-0 E ha messo tutto il potenziale offensivo Spalletti In inizia della partita ovviamente si è spostata Perché le forze nervose ti portano a voler recuperare un risultato Eccetera Secondo me è anche troppo ecco nel secondo tempo Perché poi c'è stato un pelo di disordine tattico Che ha causato secondo me Che ha acutizzato secondo me la sterilità del Napoli Dopo è stato un buttare palle E che Dio ce la mandi buona Non c'è stato veramente una giocata super pulita Da dire mamma mia guarda che ha combinato Una delle poche giocate pulite nel finale È stato sicuramente il tiro di Ozyman parato da Mignan Però un tiro molto complicato ecco sul primo palo E poi ragazzi qualche occasione di Unas Però poca roba ragazzi C'è stato veramente il caos più totale Non per forza schierare tutti questi uomini offensivi Nel finale di partita Porta ovviamente al risultato positivo Anzi secondo me porta un ingorgamento Dell'area di rigore avversaria Quindi meno spazi Più caos Ed è molto più complicato Secondo me con molto più traffico È veramente difficile A meno che non sia un mischione negli ultimi minuti Che giochi a palla lunga E a quel punto vale tutto Si lotta sulla seconda palla E poi al limite la si prova In questa maniera Ecco sfruttando il caos Però per come gioca il Napoli Secondo me buttare dentro tutta questa gente offensiva Ha causato secondo me scompensi C'è stato disordine tattico E un disordine che secondo me Il Napoli non riesce a districarsi molto bene Invece occhio Perché il Milan ha avuto anche l'occasione Del raddoppio nel finale di partita Con Salemakers Che se per caso e per sbaglio Il Napoli pareggiava nel finale Aveva sulla coscienza Quella situazione sbagliata Poi il Milan brava ad amministrare Gli ultimi minuti Con un Chessi Che stava lì Nel calcio d'angolo E ha volato un minuto E passa così E la partita è terminata Però ripeto Mentalmente è strano Il Napoli quando sente la parola Scudetto Casca sempre Casca sempre È incredibile È veramente incredibile Eppure secondo me Quella squadra ha il potenziale Per poter arrivare allo torsola Fino all'ultima giornata È veramente A mettere in serie difficoltà Comunque sia Inter che Milan Però non lo so Questo ragazzi Conta più dalle gambe Conta più della bravura Del collettivo Eccetera Alla fine la testa Fa tutta la differenza del mondo Quando si giocano queste partite Ed è un Napoli Che ripeto Gli viene il braccino Si caccano addosso Per un motivo o l'altro Per l'avversario Più o meno valido Per una situazione Eccetera Non lo so Casca sempre Il Napoli Si schianta È incredibile Milan invece Che grande prova di maturità Secondo me Con un Teo Hernández Oggi in versione Cyborg Sovraumana Quasi no Ha fatto veramente Delle cose spaziali Spaziali Giroud Gran partita Anche oggi di Giroud Ha fatto salire molto bene La squadra Ha tenuto bene E poi ragazzi Quel gol è suo E ha fatto lo stesso gol Che ha fatto all'Inter Al derby Uguale Preciso Coppia Incolla È stata una partita Del Milan Veramente Preparata Molto bene Da Pioli Perché Pioli Secondo me Ha ingorgato tanto La zona centrale di campo Costringendo il Napoli A giocare spesso Sugli esterni Osimene Ha ingranato tardi Quando sembrava avere gamba Il risultato era già compromesso E c'è stato quel guazzabuglio E quel caos Di uomini offensivi Buttati là dentro Senza uno scopo E secondo me Non è riuscito più a far nulla Perché poi il Napoli Si è riversato Nella metà campo avversaria E secondo me Osimene è un giocatore Che è più da strappo Più da giocatore Che va in profondità Quando si gioca su spazi Molto molto stretti Magari anche la giocata All'1-2 Come è successo Che ha fatto quello scambio là E poi ha tirato centrale Su Megnana A fine primo tempo Vicino Insomma Alla conclusione Della prima frazione di gara Qualche conclusione Te la sa fare così Però Poi dopo nel finale È sparito Dove essere L'uomo importante La cosa che secondo me Ripeto Ha sbagliato il Napoli È nella formazione iniziale Cioè Zilinski Non è in forma Eccezionale Un po' impalpabile Insigne politano Molto molto timidi Oggi No Li abbiamo sentiti poco Per il resto Ragazzi Il Napoli Ha giocato abbastanza bene Ecco Non ne abbiamo fatto cagare Però quei due Sono stati quelli assenti La parte offensiva È stata Quella sicuramente Meno bella La fase meno bella Ecco Del Napoli Però ripeto Era una di quelle partite Che poteva finire Con qualsiasi risultato Perché era veramente Una partita Da equilibrio totale Non ho visto Le statistiche Ragazzi Adesso do un'occhiata Al volo Giusto per Farevi capire Un po' Possesso palla Tiri 9-12 Ti importa Due per il Napoli Sette per il Milan Non quello di più Ho fatto anche un bel miracolo Spina Nel primo tempo Su quel colpo di testa Non mi ricordo Di chi Di Tomori forse O di che sì Non mi ricordo Ho fatto stacca Ha fatto una bella parata Poi c'è stato un fallo Dentro l'area Quindi non so Magari l'avrebbe invalidato Quel gol Però Anche là il Milan È stato pericoloso Possesso palla Più il Napoli Ma ce l'aspettavamo Ci aspettavamo Probabilmente una partita Molto più in ripartenza Da parte del Milan Precisione dei passaggi 86% Napoli Napoli più pulito E 76% Milan Perché questo? Perché si è cercata Molte più volte La verticalizzazione E il lottare Sulle seconde palle È stato questo Il gioco del Milan Un gioco magari Meno pulito Ma estremamente efficace Oggi Poi ripeto Complimenti a Pioli Per come ha impostato Sicuramente la fase Di non possesso Ingorgare le vie centrali Costringere il Napoli A giocare sugli esterni Però anche là Ha trovato pochi sbocchi Ripeto Politano Insigne Una delle partite Più negative Di quest'anno Ripeto La classifica La classifica è questa qua Il Napoli Non è che deve piangere Con addio Scudetto Perché poi Non so perché Questa piazza È in grado di passare Al Vinciamo tutto Al non vinciamo Un emerito Un emerita mazza Serve equilibrio Se sono ancora là Possono lottare E poi passi falsi Insomma anche delle altre Possono arrivare Adesso il Napoli ha Il Milan ha comunque Un calendario abbastanza complicato C'è l'Inter C'è la Lazio C'è il Toro Che sono partite abbastanza ostiche C'è il Verona In casa del Verona C'è l'Atalanta C'è il Sassuolo E quindi Insomma Sarà bello Vedere un po' Come finirà Sto campionato Il Napoli ha Un calendario abbastanza agevole A parte l'Atalanta Il Verona fuori casa C'è la Roma La Fiorentina E basta Per il resto Sono partite Secondo me Sulla carta Abbastanza Insomma Abbordabili Ecco Invece l'Inter Ha la Juve La Fiorentina Il Verona Il Milan La Roma C'è Hanno un calendario abbastanza Complicato Anche se è un finale Magari Un pelo più morbido Empoli Cagliari Assamp Nel finale di stagione Quindi vediamo E' ancora tutto aperto Come vedete Tutti hanno due o tre partite Che non ce le ha ostiche La Juve Ma ragazzi Sulla carta Perché poi Vedete oggi Juve e Spezia Nel secondo tempo Abbiamo penato Quindi per noi Sono tutte complicate Quindi Lotta a tre Vedremo Sarà sicuramente Un rush finale di campionato Molto interessante Grazie per avermi ascoltato Fin qua Ovviamente rinnovo L'invito a iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Mi raccomando Cliccate sulla campanella Delle notifiche Ne ci vediamo domani L'analisi Della Juve A freddo Cercherò di portarvi Alcuni elementi Interessanti Per alimentare Un po' La discussione E niente Vi mando un grosso abbraccio E sempre Fino alla fine Forza Juve Della Juve Della Juve